Il grande giorno della musica, Città Nova si avvicina, c'è tanta attesa per il concerto del maestro Nicola Piovani che accompagnato dall'Essambla Ara Coel si esibirà domani sera al Teatro Gentile. L'evento organizzato dall'Associazione Calomea con il patrocinio dell'amministrazione comunale con l'esibizione del premio Oscar chiude il cartellone della tredicesima stagione teatrale che ha riportato il Teatro di Città Nova dopo anni di chiusura per lavori di restauro e gli antichi fasti. Le richieste per assistere al concerto continuano a giungere da tutta la regione a dimostrazione che gli obiettivi degli organizzatori e dell'amministrazione di rilanciare la struttura sin dall'anno di riapertura e di dare una visibilità positiva al paese possono dirsi ampiamente raggiunti valutando anche i consensi e la partecipazione del pubblico durante tutta la stagione. Lo spettacolo, la musica è pericolosa, vedrà il maestro Piovani al pianoforte accompagnato da Rossano Baldini alle tastiere alla fisarmonica da Marina Cesari, sax e clarinetto Pasquale Filastò, violoncello e chitarra, Ivan Gambini, batterie e percussioni e Marco Loddo. Contrabbasso verranno eseguiti brani teatralmente inediti e nuove versioni di brani noti. Inoltre i video di scena integreranno il concerto con immagini di film e spettacoli e con immagini d'autore che artisti quali Luzzati e Manara saranno dedicato all'opera musicale di Nicola Piovani.